Un attimo, un attimo, un attimo, ecco ci sono, ci sono, ecco buonasera, io a parte la simpatia che ripropongo a tutti, umana e personale, io volevo farvi riflettere su alcune questione rispetto a quel tipo di provvedimento preso, cioè sul fatto che già Area C sarebbe un provvedimento a rivedere, a luce del fatto che dal 28 marzo su rilevazioni ARPA il PM10 non è più causato dalle automobili, cioè dal 2010 al 2020 qualcuno ha investito le case automobilistiche per cui non è più la causa principale del PM10, non sono più le automobili, quei soldi di Ecopass, zona verde voluta da Moratti, se non sono serviti a spingere le amministrazioni successive di coloro diverso a investire o aiutare i condomini privati e gli edifici pubblici comunali a investire sulle caldaie, però qualcuno l'investimento l'ha fatto, quindi un primo dato positivo. Secondo elemento che volevo introdurvi è chi sta nel centro storico di Milano, commerciante o no, avendo un IRPEF che dal 2011 è aumentato al 250% e l'IMU di tre volte tanto, è un'eccellenza. Chi resiste? E sono fatte di botteghe storiche, di storia che parla di Milano. Ecco, alla luce del coronavirus, e io riprendo qui il continuo ragionamento del mio capogruppo Testori, il problema si porrà in questo senso. Fatte queste premesse qui, io veramente l'immagine che noi adesso, io guardavo le fotografie satellitari, le fotografie dall'alto l'altro giorno, è vero che ho scoperto che soffro di claustrofobia, vedendo queste foto ripeto all'alto di Corso Venezia. Le dico la verità, mi mettono un pochettino di panica e un pochettino di ansia. Forse è questo il fine ultimo, quello inconscio di Granelli, di allontanare chi ha vissuto un passato di immessione d'uomo e con il gusto di guardare il bello delle facciate di un'architettura anche importante che c'è in Corso di Porta Venezia, in Corso Venezia. Guardate che se il fatto che gli automobili non sono più un problema di inquinamento, la mobilità deve essere possibile accedere al centro perché ci sono negozi di pregio, ma quindi se pensate a un processo, a rendere la città smart, la smart city, con queste soluzioni siamo, io temo, nel sonno della ragione e della progettazione, sempre nel sonno più totale e mortale della società green. Grazie.